Siamo entrati nel 2024, anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Quali sono le aspettative dal punto di vista turistico da chi Confcommercio Marche Nord turismo lo fa da anni con il suo itinerario della bellezza? Diciamo che Confcommercio è da sempre impegnata sul fronte della promozione turistica, avendo creato già nel 1994 un tour operator per fare incoming nel nostro territorio. Il progetto itinerario della bellezza che negli ultimi anni ha riempito le pagine di giornali a livello nazionale e internazionale è un successo straordinario della nostra organizzazione, tant'è che quest'anno, 2024, sono 24 i comuni che hanno aderito all'iniziativa e che hanno conferito a Confcommercio l'incarico della promozione. All'interno dell'itinerario della bellezza, Pesaro, capitale della cultura 2024, ha uno spazio importantissimo, fondamentale. Noi abbiamo un'aspettativa grande in merito alla comunicazione che sarà fatta e che è stata fatta e che sarà fatta durante l'anno per Pesaro e la provincia. Non solo e non tanto per i riflessi che quest'anno avrà l'evento di Capitale Italiano della Cultura, ma per i prossimi anni. Cioè il 2024 come un trampolino di lancio per futuri positivi per l'economia turistica della nostra provincia. Per questo noi stiamo già lavorando, usciamo a giorni con la nuova guida dell'itinerario della bellezza, dove c'è peso la capitale della cultura con il calendario degli eventi che in tutta la provincia ci saranno quest'anno. Lo presenteremo la prossima settimana a Utrecht in Olanda e poi il 5 di febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Abbiamo poi già programmato tutta una serie di eventi, di iniziative, serate promozionali, fiere in Italia e all'estero per continuare questa attività di promozione che giocherà molto sul fatto di peso la capitale italiana della cultura. Io devo esprimere le mie congratulazioni a Daniele Vimini per il lavoro che ha fatto, che sta facendo anche in collegamento con il Rossini Opera Festival per promuovere Pesaro e Pesaro capitale della cultura. Tante le iniziative che loro hanno programmato sono assolutamente di spessore, molto valide. Sta a noi poi anche contribuire attraverso una capillare formazione e informazione, cosa che insomma stiamo facendo. Grazie a tutti.